ciao amici bentornati oggi torniamo a parlare di prelibatezze che potete gustare in giro per il mondo o in italia oggi siamo in piemonte e più precisamente ad ivrea e se passate da questa città dovete assolutamente assaggiare la torta 900 quindi se siete amanti della pasticceria questa è una prelibatezza che non vi potete assolutamente far mancare attenzione però perché questa torta la potete assaggiare esclusivamente presso la pasticceria balla che ne detiene il brevetto si avete capito bene il brevetto ma soprattutto è l'unica a conoscere la ricetta originale infatti il pasticcere ottavio bertinotti la creò alla fine dell'ottocento e da qui il nome torta 900 aveva capito che questa torta avrebbe avuto un gran successo ed infatti è deliziosa e quindi la brevetto e non diede nessuno la ricetta ad oggi la detiene appunto questa pasticceria questa delizio è una torta apparentemente molto semplice infatti è composta da dei dischi di pan di spagna molto soffice al cacao e la sua farcitura è composta solo da apparentemente la crema pasticcera e cioccolato la farcitura insieme al pan di spagna a questo pan di spagna viene fatta esclusivamente all'ultimo momento proprio per preservarne la freschezza vi ripeto che se volete gustare questa delizia lo potete fare esclusivamente nella pasticceria balla lascio qui sotto in descrizione il collegamento a questa pasticceria che è www.torta900.com per oggi è tutto vi salutiamo e alla prossima ciao ciao